Signori, oggi noi dobbiamo praticamente fare 3 giri di cerchio in 44 secondi, minimo e si, vedi, sono 3 giri ma perchè? questo è un vecchio gioco per la PlayStation 2, boh, così, l'ho ripescato dai neandri c'è 2, vedi, già 25 secondi, c'è già vabbè, non ho perso, c'è, perchè? vedi, già il secondo giro, 36 no, è, è lito c'è, allora vabbè, cì, proviamo a fare questo allora, il peggiore che dobbiamo fare sempre 3 giri, il peggiore sono 39 secondi il peggiore, eh e vedi, perchè questo è anche un po' più veloce c'è quando mi avvicino troppo al cerchio devo frenare tanto questo cade 16 secondi no, è la cameo, cioè comunque questi bordi che vedete cioè che io la PlayStation 2 io l'ho collegato con un adattatore da videocomposito ad Accademia e quindi c'è l'immagine giustante un po', vabbè sti gran cazzi tranquilli questi bordi li vedete sia voi che io questo è l'ultimo dei problemi questo è l'ultimo dei problemi questo è l'ultimo dei problemi c'è 30 giri c'è che poi c'è capito 38 39 è già fallito è già fallito eh, vedi c'è vedi 44 eh no, devo farlo in 39 secondi chi cazzo lo fa in 39 secondi? che che poi dico fammi fare un giro, due giri ma tre giri, cioè c'è questo dico tre giri ma fammi fare uno massimo due giri no, tre giri devo farmi chi cazzo li sa fare tre giri? c'è tre giri chi cazzo li sa fare tre giri? c'è eh 38 38 aspetta aspetta niente niente è già fallito eh niente è già fallito eh, se vabbè un'ora cioè, se vabbè dieci anni ovviamente ovviamente la moto la moto da corsa che non gira ovviamente la moto da corsa se tu fai così la moto non gira c'è capito? sta stronza continua ad andare dritto cioè non è che porco dio tu devi girare cioè hai capito? non è che tu devi girare è questo no questa va questa va dritta ancora qui a me vabbè poi da da corsa un bel complimento cioè poi c'è dico io eh vabbè poi dico io per prendere la patente che cazzo serve sta prova cioè tu dici cioè no perché se io cioè no perché se io cioè se io non cambio cioè tipo prova cioè queste cose qua cioè tipo se cioè se io non prendo tipo la patente dentro il suo gioco io tutte le gare che farò io le dovrò fare con la moto di base tu ne chi dici vabbè cioè eh vabbè la cioè tu ne chi dici cioè vabbè le moto le puoi comprare no le devi sbloccare cioè capito le devi sbloccare facendo le prove prendendo la patente e tu la moto la sblocchi prendendo la patente cioè capito non è che la compri no sì che un conto alla vita reale che giustamente più moto più patenti eh eh cioè la patente per la moto eh per cioè la cioè c'è la patente per la moto di merda e la patente per la moto cioè ci sono più patenti giustamente eh eh come è giusto che sia eh 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 cazzo gira a capote piuttosto merda dai muoviti perché il colore di merda c'è il figlio mio c'è quello il mio compagno la bugia quel il fantasma che mi dice dove è l'onda dai gira e non gira che cazzo vabbè mi sono rotto i coglioni